San Michele di Serino, la tavernetta Marinelle, il proprietario del locale è Giovanni Romano, il quale ci ha consentiti stasera di vivere dei momenti fantastici. Vale lo stesso per voi, una bellissima serata. Niente, che dire, al di là di ogni più rosa e aspettativa, bella serata, buon cibo, almeno da quello che sento. Abbiamo messo giù un menù molto semplice, però gustoso, dei paccheri alla bolognese di cinghiale, una brace a vista, come si può vedere, si è esposto delle salsicce locali con del capicollo fresco di maiale intero, cotto intero e poi tagliato e delle patate cotte alla cenere, del buon vino aianico di Taurasi e poi con la splendida musica del tango argentino, non possiamo volere di più. Bella serata. Grazie. Puoi dire due parole? Certo, voglio dire due parole. Voglio ringraziarti innanzitutto per la tua grande ospitalità. Sei innanzitutto un amico, ci conosciamo da una vita, ci conosciamo. Venire da te è sempre stupendo, sia per quanto riguarda il cibo che è eccezionale, devo dire la verità, qualunque piatto fai è fantastico. E ripeto, la tua ospitalità è unica, sinceramente è unica, di questo ne sono orgoglioso e fiero. Ti ringrazio. Grazie, grazie a voi. Ma sicuramente ritorneremo, non è la prima, questa non è la prima, ne abbiamo fatte precedentemente altre e ne faremo ancora tante altre. Grazie, grazie. Ci salutiamo con la musica meravigliosa di Pietro Bentivenga, grazie. Grazie mille. Grazie a voi.